Il catalogo 2024 di Mondo Convenienza propone diverse soluzioni per arredare la camera da letto con prodotti di qualità a prezzi competitivi. Le camere da letto Mondo Convenienza si adattano a ogni stile, dalle linee classiche a quelle moderne, e offrono soluzioni funzionali come letti contenitori e armadi supercapienti. Tra le proposte del catalogo 2024 spiccano le camere da letto Primula, Eleonora e Erika, che si distinguono per dettagli unici come maniglie discrete, molte varianti di colore e dettagli accattivanti. Le camere da letto Vela, Diana, Viola e Donatella si contraddistinguono per la loro originalità, l'estetica curata, i dettagli unici e le varie combinazioni di colore disponibili.